Il trofeo di nuoto città di Pineto è dedicato come sempre a delle associazioni che si occupano per lo più di bambini, quest'anno ancora ACAR che si occupa di malattie raree infantili, però non solo perché comunque ci sono anche altre associazioni a latere che cerchiamo di sostenere con il nostro piccolo contributo. Parliamo della manifestazione dal punto di vista sportivo, cosa faranno i partecipanti? I partecipanti 100 quest'anno si vedranno impegnati in quattro percorrenze di nuoto, ci sarà una 12 km che noi chiamiamo la doppia, ci sarà una percorrenza classica che è una 6 km, una percorrenza mezza che vede 3 km e quest'anno una novità che è la 1500 sprint, proviamo una percorrenza corta sotto costa per dare possibilità a tutti di provare l'open water. Anche quest'anno ci riproponiamo con questa nostra iniziativa che vuole mettere l'uomo a confronto con la natura e con il mare, vivere questa esperienza ma deve essere per tutti sicura. Noi diamo il massimo dell'attenzione al primo, all'ultimo nuotatore affinché avvenga una nuotata il più sicuro possibile in realtà con il mare, quindi deve vivere un'esperienza unica e nell'ambiente circostante marino che deve essere bello, quindi la sicurezza deve essere importante.